Controlli a tappeto presso gli esercizi pubblici di Salerno e provincia da parte della Polizia di Stato. Nel corso dell'attività sono stati controllati in particolare due bar e due discoteche collocate presso degli stabilimenti balneari. Al titolare di un esercizio di piano bar con musica dal vivo a Fisciano sono stati elevati due verbali, rispettivamente per aver impiegato due persone con mansioni di addetti alla sicurezza senza essere iscritte nell'apposito registro e per aver omesso di esporre il cartello contenente la lista degli ingredienti utilizzati nei prodotti di pasticceria esposti al banco. Presso una discoteca situata in uno stabilimento balneare a vietri sul mare, l'operazione ha portato invece alla denuncia di un uomo a piede libero per aver esercitato abusivamente l'attività di agenzia per la fornitura a terzi di personale con mansioni di addetti alla sicurezza senza essere in possesso della licenza. Il titolare di una discoteca di Ponte Cagnano-Faiano è stato invece denunciato a piede libero per aver omesso di collocare gli estintori nelle aree predisposte e previste dal certificato di agibilità. Presso lo stesso locale, inoltre, nei confronti del titolare di un'agenzia di investigazione è stato elevato un verbale per aver fornito una persona con mansioni di addetta alla sicurezza senza essere iscritta nell'apposito registro prefettizio. Nei confronti del titolare di un barsito sempre a Ponte Cagnano-Faiano, infine, è stato elevato un verbale per aver omesso di tenere a disposizione dei clienti l'apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, nonché di esporre le previste tabelle relative alla descrizione dei sintomi e della concentrazione alcolica delle bevande.